Buonasera a tutti. Su ControTV abbiamo deciso di lanciare una serie di speciali dedicata ai debunker che si chiamerà la chiappa debunker. Chi già li conosce sa benissimo perché la facciamo, per chi invece non li conoscesse spieghiamo brevemente chi sono i debunker. Tecnicamente debunker significa smontatore, colui che smonta, che fa a pezzi qualcosa. Nel particolare i debunker si vantano di smontare tutte le cosiddette teorie del complotto. Tutte. Il problema è proprio questo, che loro cercano di smontarle tutte, sistematicamente. Non agiscono quindi con un criterio analitico dicendo boh questa teoria è plausibile, quest'altra magari un po' meno. No, per loro nessuna teoria alternativa può esistere rispetto alle versioni ufficiali. Nessuna. Se andate sul sito del CICAP, che è il tempio dei debunker nazionali cappeggiati da Piero Angela, scoprirete che nessuna teoria alternativa ha la minima credibilità. L'11 settembre, secondo loro, l'ha fatto Bin Laden e gli americani sono solo delle povere vittime. A uccidere Kennedy è stato naturalmente l'Iarvi Oswald e tutte le teorie alternative non stanno in piedi. Sulla Luna ovviamente ci siamo andati e chi dice il contrario racconta scemenze. I cerchi nel grano non hanno niente di misterioso, sono tutti opera di burloni che non hanno niente di meglio da fare nelle calde notti d'estate. Le scie chimiche naturalmente non esistono. Tu puoi mostrargli degli orrori indescrivibili che vengono fatti nei nostri cieli e loro ti diranno che quelle sono normalissime scie di condensa, anche se sanno benissimo che le scie di condensa di solito durano al massimo qualche minuto. Gli UFO poi non ne parliamo, naturalmente non esistono e tutti i fenomeni osservati nel cielo sono spiegabili in termini umani. Le cure alternative ovviamente non funzionano, nessuna funziona e bisogna fidarsi solo della medicina ufficiale. Idem per i vaccini che sono assolutamente sicuri e non comportano il minimo rischio, anche se la stessa Corte Suprema Americana ha dichiarato il contrario. Anche il 5G per loro è assolutamente sicuro e non comporta alcun rischio, anche se a tutt'oggi non esiste una sola prova scientifica che dimostri che non è dannoso. Quindi è curioso questo fatto. Com'è possibile che esista della gente che riesce a non avere il minimo dubbio su nessuna di queste verità alternative? Come può essere che la stessa persona non abbia il minimo dubbio sul caso Kennedy, non abbia il minimo dubbio sull'11 settembre, non abbia il minimo dubbio sugli allunaggi, sugli UFO, sulle cure alternative eccetera eccetera? Perché in realtà i debunker non sono dei ricercatori di verità, ma sono i più feroci, i più accaniti difensori dello status quo. Loro difendono il sistema, qualunque esso sia. È una scelta di campo quella che hanno fatto. Loro stanno sempre dalla parte delle versioni ufficiali, quelle dei governi, indipendentemente dalle prove che ci possono essere contro queste versioni ufficiali. I debunker sono i cani da guardia del potere e il loro ruolo è quello di negare ogni possibile teoria alternativa e di tranquillizzare le persone. Non c'è nessuna manovra oscura, non esiste nessun complotto, i governi non vi mentiranno mai, le case farmaceutiche vogliono solo il nostro bene, voi state tranquilli e pensate solo a fare i bravi e andare a lavorare. Il debunker è il grande tranquillizzatore e agisce naturalmente sulle persone più deboli psicologicamente, cioè proprio quelle che hanno bisogno di essere tranquillizzate, che hanno bisogno di sentirsi dire che tutto va bene e che non c'è nessun inganno da nessuna parte. In proposito c'è un bellissimo proverbio latino che definisce con precisione qual è la funzione sociale dei debunker. Quieta non muovere et mota quietare, e cioè non agitare ciò che è calmo e calma ciò che è agitato. Il grande tranquillizzatore, appunto, il cane da guardia del potere. A loro non interessa scoprire la verità, casomai gli interessa coprirla quando questa verità rischiasse di mettere in dubbio la credibilità delle istituzioni che loro vogliono difendere a tutti i costi. La cosa bella è che loro riconoscono loro stessi questo ruolo. Volete un esempio? Eccolo qua. In una trasmissione radiofonica di qualche anno fa, discutendo con Paolo Franceschetti, Attivissimo ammette candidamente che non si può accettare che siano stati gli americani a fare l'11 settembre, perché altrimenti bisognerebbe mettere sotto accuse Bush e la CIA, e così cambierebbero gli equilibri del mondo. Sentite la clip. Io ho seguito questa questione perché ho visto che una forte parte dell'opinione pubblica stava cominciando a farsi sedure da queste tesi alternative. Il rischio era che, se fosse vera la tesi del complotto per cui è stato un autoattentato, sarebbe stato a questo punto necessario fare un impeachment del presidente. Quindi non è una cosa così da fare alla leggera. Sarebbero cambiati gli equilibri del mondo. Se salta fuori che il terrorismo islamista in realtà non esiste ma è un'invenzione della CIA, per esempio, questo cambia completamente le carte in tavola. Avete sentito? Se saltasse fuori che è stata la CIA a organizzare l'11 settembre, questo cambia completamente le carte in tavola e quindi non si può fare. A me personalmente se cambiassero le carte in tavola farebbe un gran piacere, perché ci toglieremmo finalmente di mezzo questa gente che ci mente sistematicamente e che sacrifica impunemente i propri cittadini per perseguire i loro interessi. Ma al debunker no. A lui interessa invece che le cose restino come sono, che il potere resti quello che è e quindi combatte le ipotesi di complotto per partito preso, con tutte le armi che ha, compresa la bugia. Il debunker nella sua testa si sente persino autorizzato a mentire, perché lui agisce per una scelta politica, non per amore della verità. E infatti qui si apre il capitolo delle tecniche usate dai debunker per convincere la gente, perché sono sempre le stesse. Sono tecniche universali, se le tramandano da l'uno all'altro, da padre in figlio, come i piccoli trucchi del mestiere dei prestigiatori del circo. Io oggi vi presento le cinque tecniche più comuni usate dai debunker nei loro video e nei loro articoli. Quando avrete imparato a riconoscerle, avrete anche imparato a difendervi dalle bugie che questa gente racconta. Tecnica numero uno, che è una delle più comuni. Il falso problema. In cosa consiste questa tecnica? Consiste nel presentare al pubblico un problema che in realtà il complottista non ha mai posto, per poi smontarlo con grande facilità. È un numero di grande effetto, tipico dei prestigiatori, che fingono di avere davanti delle difficoltà insormontabili che in realtà hanno già risolto. Faccio un esempio qualunque. Se andate a leggere uno dei mille articoli che sono usciti la scorsa estate in occasione del cinquantesimo anniversario delle missioni Apollo, molti giornali hanno dedicato una pagina alla cosiddetta teoria del complotto lunare, pagine che naturalmente erano tutte ispirate da Attivissimo e Company. E in tutte queste pagine trovai una lista di quelle che erano, secondo loro, le obiezioni principali dei complottisti alle missioni Apollo. Ad esempio, diceva il giornale, il complottista dice che non si vedono le stelle nel cielo e quindi le foto sono false. Ma le stelle in realtà non si devono vedere, ti spiega poi l'articolo col tono serioso, perché la sensibilità della pellicola non è sufficiente a registrare la luminosità. Mistero spiegato. Bravo. Peccato che nessuno mai abbia fatto veramente con l'obiezione, perché non regge. Io stesso nel mio film spiego chiaramente perché le stelle non si devono vedere nelle foto dalla superficie lunare. Ma loro si inventano un problema che non esiste e poi lo risolvono con grande facilità e così si prendono l'applauso dei loro seguaci. Come si suol dire, gli piace vincere facile. Vedrete quanti esempi ci sono di questa tecnica del falso problema nei filmati dei debunker che andremo ad analizzare puntata per puntata. La seconda tecnica usata dai debunker è l'esatto opposto della prima. Ignorare fatti appurati. Cioè, esattamente come il debunker ci sceglie accuratamente dei falsi problemi che è facile risolvere, altrettanto accuratamente finge di ignorare quelli veramente difficili, quelli che non hanno una risposta accettabile. Ad esempio io nel film sulla luna faccio vedere delle situazioni veramente difficili da spiegare, come ad esempio bandiere che oscillano senza che nessuno le abbia toccate, oppure dei ritardi audio troppo brevi per essere delle comunicazioni che vanno davvero dalla Terra alla Luna. Ecco, state pur tranquilli che questi argomenti difficili nelle famose liste preparate dai debunker non li troverete mai. Ed è proprio per ovviare a questo doppio problema, dove da una parte i debunker si scelgono loro gli argomenti facili, dall'altra fingono di ignorare quelli più difficili, che io mi sono deciso nei miei film a mettere delle domande ben precise alla fine di ogni capitolo. Nel film 11 settembre, la nuova per l'arbor, faccio 50 domande ben precise ai debunker, ai sostenitori della versione ufficiale. Nel film American Moon faccio 42 domande ben precise ai debunker sugli argomenti trattati. In questo modo, obbligandoli a rispondere su una domanda precisa li metto in un angolo, perché li obbligo ad affrontare i problemi che scelgo io, non quelli che scelgono loro. Ed è a questo punto che scatta la più bella, la più maestosa, la più spettacolare di tutte le tecniche dei debunker. La supercazzola. Quando il debunker si trova costretto a rispondere a una domanda precisa che non ti lascia scappatoie, allora lì parte la supercazzola. Parte cioè un discorso infinito, fatto di mille citazioni, di argomenti collaterali, fumosi, di dati, di grafici e di rimandi che sembrano in qualche modo affrontare l'argomento, ma che in realtà non hanno niente a che vedere con il cuore della mia domanda. Loro gli girano soltanto intorno. Tu leggi paragrafi dopo paragrafi su questo argomento, finché il debunker ti prende per sfinimento. Alla fine ti dà l'impressione di avere risposto, anche se in realtà non l'ha fatto. Il supercazzolone è la specialità assoluta del debunking. È la torre Eiffel della presa per il culo. È la tesi di laurea di questi personaggi che sono in realtà dei prestigiatori da circo. Sono prestigiatori che non giocano con il cappello e il coniglio, ma giocano con le parole. Ti portano a spasso per mezz'ora, riempiendoti di citazioni, di grafici, di termini scientifici incomprensibili e poi alla fine ti lasciano l'impressione di avere comunque risposto alla domanda. Vedrete alcuni esempi di questi supercazzoloni che sono veramente esilaranti. Bene, queste tre tecniche, cioè il falso problema, ignorare fatti apurati e la supercazzola, sono le tre tecniche principali utilizzate dai debunker. Poi ce ne sono alcune secondarie come quella, ad esempio, di mettersi sempre dalla parte della scienza. Il debunker si posiziona già in partenza dalla parte della scienza. Lui rappresenta la scienza, lui rappresenta la verità scientifica e quindi automaticamente il complottista ricade nel territorio della superstizione, della credulità popolare, del non dimostrato. Avete presente Burioni, no? Quando dice io sono la scienza e quindi voi automaticamente siete ignoranti. Da dove credete che l'abbia imparata questa tecnica, il nostro Burioni? L'ha imparata dai debunkers. Vedrete quante volte sono proprio invece loro quelli che si ammantano del metodo scientifico ad ignorarlo quando gli fa comodo ignorarlo. Poi c'è ancora un'altra tecnica usata spesso dai debunker. Mandare a vedere. Chi segue abitualmente i dibattiti con i debunker avrà già notato mille volte, come questi ti dicono, è scientificamente dimostrato, vai a vedere, troverai decine di pagine sul web che te lo confermano. Ma, dico, potresti indicarmene una tu di queste pagine invece di mandarmi in giro come un cretino alla ricerca di queste conferme? No, io non ho tempo da perdere, ti dice il debunker sdegnato. Vai e cerca, vedrai che troverai. Poi ovviamente se vai a cercare non trovi mai niente. Ma questo è tipico del debunker. Loro pretendono da complottista la documentazione più accurata per ogni affermazione che fai. Poi però quando tocca a loro affermare qualcosa ti mandano a vedere. Vai e cerca, vedrai che troverai. Oppure ti dicono è tutto documentato qui, qui e là. Ti sbattono lì tre link qualunque, poi se tu vai a verificare scopri che nel documento non c'è assolutamente niente di quello che dicevano loro. Ma loro nel frattempo ci sono cavati dall'impiccio del doverti dare una spiegazione precisa. Quindi, nella sostanza, quella del debunker è un'operazione di magia, è illusionismo, uno spettacolo da carrozzone nel quale il pubblico viene illuso di vedere una certa cosa mentre in realtà quella cosa non c'è. Ma loro sono bravissimi nell'usare queste tecniche, esattamente come il bravo mago da avanspettacolo è capace di spostare la tua attenzione sulla mano sbagliata mentre con l'altra ti rifila la fregatura. Pensate a una cosa curiosa, James Randi, il padre spirituale di tutti i debunker del mondo, che qui vedete ritratto insieme a Massimo Polidoro e Piero Angela, lo sapete che mestiere faceva prima di diventare debunker? Faceva proprio il mago prestigiatore, il professionista dell'inganno. Curiosa transizione da un mestiere all'altro, non trovate? Quindi nelle prossime puntate vedremo l'applicazione pratica di queste tecniche da parte dei debunker e comincieremo proprio da Massimo Polidoro, il segretario del CICAP, che adesso sta prendendo lentamente il posto di Attivissimo. Attivissimo ormai è sputtanato in rete dopo aver raccontato bugie per 15 anni e i debunker si rifanno il trucco, si rifanno la faccia, presentano dei volti nuovi come appunto Massimo Polidoro oppure Adrian Fartade. La prossima settimana inizieremo ad analizzare un video che Massimo Polidoro ha fatto sul caso Kennedy, nel quale il segretario del CICAP con grande autorevolezza ci spiega come ad uccidere Kennedy sia stato lì Harvey Oswald e come appunto tutte le altre teorie del complotto non stiano in piedi. Vi garantisco che ci divertiremo. Allora restiamo così per adesso. Tutti i venerdì alle 21 abbiamo il commento sulle news della settimana con Giulietto Chiesa, mentre ogni mercoledì a partire dal prossimo 4 dicembre avremo gli speciali dedicati ai debunker. Ricordatevi comunque di iscrivervi alla nostra pagina di Facebook che è facebook.com barra controtvmedia tutto attaccato perché da quella pagina riceverete tutte le notifiche per ogni nuova puntata che manderemo in onda. Oppure se preferite altri social come Telegram o Twitter trovate tutti i link sulla home page di ControTV. Grazie di tutto e ci vediamo venerdì 29 alle 21 con Giulietto Chiesa e poi mercoledì 4 dicembre per la prima puntata sui debunker con il video di Polidoro.